E' un video per i volontari Chi conosciamo? Allora qui abbiamo tre ragazze, quattro ragazze Non c'è lei, non stai prendendo nella ciuci Ciao, mi nascondono Ecco le bellissime Che reduci dal campo di Reggio Reduci dal campo di Reggio Scegliono con gioia di venire al campo di sesso Guardate la gioia E si ritrovano in magazzino a Milano Ciao bella gioia Ciao 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 l'ho preso, ciao lontari Ciao Ciao Ciao, chi salutiamo in Etiopia? Ciao, ciao Elisa, Sandra, Ceci, Marta Salutate in Etiopia Ciao 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 a tutti Ciao a tutti volontari Spero che quest'estate ci rivedremo ancora E buon Etiopia e per questo tempo Buon Etiopia E buon Etiopia, volevo dire Marco Ecco Giacomo e Ale Giacomo e Ale Ciao Ale e Giacomo Sì Ciao Giacomo e Ale Giacomo e Ale Giacomo e Ale Giacomo e Ale mi aspettiamo Ciao Ciao Ho la lettera per voi Sì, ho la lettera per voi Saluta tua zia, testina Ciao Ciao Oh comunque grazie perché questa settimana Entrei in un giorno che mi avete iscritto Veramente non era mai successo Sono commossa È vero, l'ha scritto a tutti Grazie, sono veramente onorata Grazie mille, ciao Amici, volevo dirvi che stiamo facendo questo video Per onorare Fra Agnelli e la sua riempimento di palle dell'anno scorso A sesto ci siamo, vi vogliamo bene Ciao ciao Qualcuno mi ti oppia Tipo Snips, la Silvia, la Laura, Giuse, la Tere La Tere Ha lasciato un messaggio A quelli di Abobo, a quelli di Bosco, di Gatto A quelli del Nord che si sa, quelli del Nord Poi Zoi, manca Sì Salute in Etiopia, non lo so Ciao Viva Don Bosco Ciao 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 Etiopia Ciao a tutti Nesta giornata che prima o poi ti scriverò Ciao 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 Se me Cecilia No Se me Marta No Se me Sandra No Chiari No 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 Cos'è successo, Marta? Non mi avete mandato alle banche. E quindi cos'è successo? Ci siamo tagliati. Ci siamo tagliati. Chi stiamo aspettando? Il mio papà. Dove ti porta? Ai punti. Ai punti? Dele sei lunga? Per prendere come schiavo così? A noi Sidamo ci fa bene. Lavorare ci fa proprio bene e bene. E noi dovremmo fare l'efficino, devo usarlo. Queste sono le ultime risate prima di giungere in discarica. Giusto. Per tutti quelli che ci guardano saprate che vi abbiamo voluto bene. Why you haven't now. Stand in the place where you were. Now face west. Think about the place where you live. Wonder why you haven't. Here we are going to be on the ground. Grazie per la visione 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 Grazie per la visione